Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Statale 1 Aurelia riaperta ma permane un restringimento di carreggiata in direzione nord per incidente al chilometro 322 Astagno. Prudenza per Nevena 15 tra Borgotaro e Pontremoli, sulla statale Trebbi Stiberina tra San Giustino e San Carlo, sulla 64 Porrettana tra Villaggio, Il Signorino e Ponte della Venturina e sulla 71 Umbro, Casentinese e Romagnola tra Badia, Prataglia e Passo dei Mandrioli. Per Neve la statale Trebbi Stiberina è provvisoriamente chiusa al transito ai mezzi sprovvisti di dotazioni invernali tra Sansepolcro Sud e Canili. Rallentamenti in entrambe le direzioni per Neve sulla statale 63 del Valico del Cerreto tra Fivizzano e Acquabona e sulla 67 Tosco Romagnola tra San Godenzo e San Benedetto in Alpe. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!